Due giornate di congresso a carattere nazionale per affrontare le tematiche legate all'attalassemia e l'emoglobinopatie. Sono quelle organizzate dall'Associazione Alta Rinovullo di Ferrara che si terranno sabato 25 e domenica 26 settembre nell'aula magna del Polo Ospedaliero Universitario Sant'Anna di Ferrara a Cona. Fra i temi trattati le tutele normative sociali ed associazionismo, le terapie, la presa in carico, gli aspetti endocrinologici, ginecologici e nefrologici e poi ancora le diagnostiche a confronto con le complicanze epatiche, l'accumulo di ferro, le terapie innovative e geniche, gli aspetti regolatori per l'autorizzazione di nuovi farmaci. Tematiche importanti che saranno affrontate da professionisti della medicina, ricercatori, clinici che arriveranno da tutte le regioni d'Italia che seguono pazienti nei centri talassemici di Piemonte, Veneto, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna ed Emilia Romagna. Il Day Hospital della Talassemia e delle Emoglobinopatie del Sant'Anna di Ferrara, diretto dalla dottoressa Maria Rita Gamberini e Centro AB regionale, segue 210 pazienti cui se ne aggiungono circa 90 ogni anno per consulenza. Il centro si avvale di un gruppo multidisciplinare di specialisti e svolge attività di ricerca clinica con l'obiettivo di migliorare la qualità delle cure e introdurre terapie innovative. Nella due giorni di Ferrara presenzeranno, oltre ai vertici dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna e dell'azienda USL di Ferrara, oltre alle istituzioni locali e nazionali, anche il direttore generale dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, il direttore del Centro Nazionale del Sangue, i vertici dell'Inps Nazionale e Territoriale e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.